Poi sulle regioni arrivo però ad Emiliano e a Galli, perché Marco ha citato la Lombardia con cui voglio parlare con Galli, ma io voglio sapere con grande franchezza da Emiliano anche qual è la situazione delle altre regioni, perché la sua Puglia va lenta sui vaccini, dato che voglio capire quali sono i nodi, i colli di bottiglia. Prima però voglio sentire un tuo parere su questo tema, perché appunto io mi aspettavo sinceramente di tornare oggi con un paese che andava tutta a birra sui vaccini, cioè questa ulteriore Pasqua blindata che abbiamo tutti affrontato con diligenza, però poi dopo, il passo dopo, è che dovevo vedere veramente 500.000 italiani tutti i giorni che si vaccinano. Ma se io non... io credo diciamo che userei più, intanto ecco anche la vicenda delle monotofi dall'idea che ormai c'è un meccanismo quasi ideologico, su qualunque cosa c'è una presa di posizione di parte senza diciamo affrontare con un minimo di pragmatismo diciamo quali sono le vicende dei problemi davanti. Quello che dico, io me ne sto convincendo sempre più, è che probabilmente noi avremmo dovuto centralizzare tutta la pandemia, fin dall'inizio. Profilarsi internazionale, articolo 117 della Costituzione, punto. Questo atteggiamento così per cui non si è fatto, ha creato dei problemi abbastanza diciamo, secondo me, difficili. Anche questa situazione per cui tu hai regioni che vanno... ieri, il Lazio è andato, credo abbia fatto 17 mila vaccini. Io sentivo, scusami, Brescia, gli over 80 ancora in fila, sostanzialmente regioni come il Lazio, gli over 80 sono già passati, si stanno vaccinando tra i 60 e i 70. Vedi la Toschiana, vedi la Lombardia. Allora il punto qual era? A me gli scrivono alcuni per dire, sai io purtroppo sono da una regione sbagliata, perché in questione della mia regione, cioè non va bene questo. Però era una cosa che andava preparata e centralizzata fin dall'inizio, partendo da un presupposto che non era una cosa che dovevi cominciare ora a ragionare in questa maniera, anche in termini proprio di logica, di razio, e dovevi rifersarsi un po' prima. Purtroppo ci siamo arrivati adesso, abbiamo ancora questo tipo di discussione, di polemica, che poi chiaramente quando tu hai delle polemiche tra Stato centrale e regioni, è evidente che sulle presi di posizione si crea subito un'ideologia. Siamo arrivati a iperturisti e chiusuristi, mettila come ti pare, è un paese che da questo punto di vista in parte è impazzito. Allora qual è? Riportiamo tutto al centro, gestiamo a livello centrale la pandemia, ma in termini chiari e definitivi, non entriamo in meccanismi per cui, adesso io posso essere pure d'accordo con Emiliano e via dicendo, però non è che se noi ci mettiamo in una situazione di questo tipo, per cui le scuole le apri da una parte e da un'altra parte non le apri, non è possibile, se andiamo avanti così non la finiamo più. Altra cosa, questo rispetto anche al governo, è chiaro che se noi abbiamo preso come idea per aprire o chiudere i parametri, non è che stiamo a discutere ogni volta apriamo o chiudiamo, il parametro è quello che di fatto crea le condizioni per aprire o meno, altrimenti andiamo avanti, ma più che di fatto un rapporto tra regioni e governo sembra un talk show, diciamoci la verità. Tutti i giorni noi, Emiliano arriva da lei, ha proposto un talk show tra regioni e governo, per l'altra misura, le tre agenzie e mano...